we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi i giorni passano ma le novità arrivano senza freni abbiamo visto ragazzi quello che sta succedendo per quanto riguarda le cinque rune che segneranno il termine di questa season numero 8 che velocemente si appresta ad arrivare all'evento e abbiamo ragazzi un sacco di cose da dire in questo video a partire ovviamente dalle rune news quindi vi tengo aggiornati su tutto quello che è successo per chi non avesse visto ciò che è capitato alla runa numero 2 vedremo ne parleremo un secondo vi aggiornerò ma dovrei avere il tempo per mostrarvi anche una nuova skin per le armi che si è un po persa nel nei meandri dei leaks di questi giorni dato appunto la grande concentrazione sul vulcano e su sponde del saccheggio ma la notizia più interessante è l'arrivo imminente di una nuova modalità di gioco si chiamerà duello ma non voglio dirvi altro ragazzi quindi mi raccomando non perdete questo video vi ringrazio però e voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xiodarone per scioppazzare di prepotenza nello shop mi raccomando è iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima eia ma prima ragazzi vi voglio fare la domandina domandina davvero molto molto interessante rivolta a un gruppo di persone e ve la faccio subito ragazzi quale supereroe vorresti nella nel crossover della modalità fortnite avengers che sta per arrivare abbiamo visto l'anno scorso thanos vi ricordo ce ne sono veramente tantissimi c'è spider man c'è iron man c'è capitano america c'è torce grott che avevamo già visto nel teaser di ieri black panther ant man doctor strange insomma ce ne sono davvero tantissimi quale sarebbe quello che vorresti nella modalità scrivetemelo qua sotto nei commenti che ci tengo tantissimo a leggerli ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito 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 a vedere com'è la situazione a sponde del saccheggio ragazzi ecco qua era plausibile era ovvio che anche la seconda cellula si fosse attivata prima di andare avanti voglio farvi vedere un paio di spezzoni di gameplay ragazzi il primo è relativo ai minuti prima dell'evento insomma della runa numero due come vedete ragazzi da questo spezzone i piedistalli quello che c'è la vicino a montagnole quello che c'era sulla bocca del vulcano contemporaneamente stavano dando energia alla runa centrale quindi la runa che era mostrata è nello nell'immagine stilizzata che vi ho fatto vedere in questi giorni una curiosità davvero molto molto interessante questo proprio vuol dire che c'è energia che la runa ragazzi vive tra virgolette e c'è da dire che subito dopo aver ricevuto il massimo dell'energia da parte dei piedistalli ecco che cosa accade in game ragazzi era ovviamente scontato vedere qualcosa del genere termina l'arrivo di energia un bagliore immenso squarcia il cielo e ragazzi la runa numero due va ad inserirsi nello slot dedicato attivando quindi il secondo portale chiamiamolo portale sinceramente non saprei bene come come chiamarlo ma eccoli qua ne mancano ancora tre e poi bella domanda ragazzi alcuni dicono che probabilmente si aprirà ed è davvero ipotizzabile che succeda questa porta vedete ragazzi che è formata da dei tagli perché è una porta tipo che si apre a spirale no ma che cosa uscirà da questa porta io non ne ho idea ragazzi e probabilmente qualcosa accadrà anche al vulcano perché una delle rune che mancano e che potremo vedere già nella giornata di oggi raffigura proprio un oggetto misterioso che esce dal vulcano ovviamente ragazzi staremo a vedere quello che succederà e anche voi sarete ovviamente aggiornati ma andiamo avanti e parliamo della modalità crossover fortnite avengers l'abbiamo visto tutti il primo teaser uscito due giorni fa che mostra il bombarolo lucente con lo scudo di thor ovviamente riconoscibilissimo il teaser di ieri ragazzi invece mostra il martello di grot curiosamente imbracciato dal pesce secco lo possiamo riconoscere dalla mano che è lì che tiene il martello ma arriva un'immagine interessantissima che potrebbe confermare il teaser che arriverà invece oggi nel pomeriggio di oggi l'immagine è questa ragazzi una locandina di avengers and games and game che è appunto l'ultimo film che sta per uscire e casualmente abbiamo non era thor porca miseria era capitana america scusatemi ragazzi sono stupido io in centro c'è appunto capitana america con lo scudo quello del bombarolo nella parte sinistra abbiamo grot con il martello e i fulmini e guarda caso a destra uno dei personaggi forse il più famoso di marvel che è iron man ricordate il video che vi avevo fatto qualche giorno fa sapete chi è lui dai lui è robert downy junior ragazzi l'attore che ha appunto interpretato iron man nella saga di avengers e come vi avevo anticipato c'era qualcosa di molto strano nel suo abbigliamento la maglietta di fortnite con il pendente di iron man un piccolo spoiler molto probabilmente da parte di epic games che ci conferma con parecchi giorni di anticipo sull'arrivo delle notizie ufficiali che in realtà la modalità potrebbe davvero concentrarsi su questo supereroe marvel staremo a vedere e attendiamo ovviamente il nuovo teaser ma andiamo avanti altra notizia incredibile è ovviamente evidente il fumo del vulcano si è intensificato un breve gameplay ragazzi ve lo faccio vedere è molto più nero di quello che abbiamo visto l'altro ieri giorno numero uno in cui appare per la prima volta una colonna di fumo che arriva fino al cielo preparazione all'eruzione ragazzi fa anche rima e c'è un altro elemento davvero super interessante che volevo farvi vedere per chi si ricorda il pass battaglia della season numero 7 a livello 89 guarda caso c'è proprio un vulcano che erutta e potrebbe davvero collegarsi sapete che gli spoilerini di epic games nei propri pass battaglia non mancano mai potrebbe davvero essere confermato anzi è quasi certamente così ma andiamo avanti ragazzi e parliamo velocemente chiudendo della modalità duello siamo su reddit abbiamo un uno sviluppatore di epic games che dice epic conferma il duello 1v1 questa modalità per iniziare sarà in modalità creativa quindi verrà solo dedicata alla creativa per adesso probabilmente la vogliono testare in come funziona funziona perché qualcuno dice come funziona sta modalità e loro dicono sì noi stiamo programmando di aggiungere il duello in poche parole la modalità supportata sarà 1v1 e chi vince resta quindi chi vince regna ragazzi dai l'abbiamo sempre detto in tutti i nostri giochi chi vince rimane e a rotazione ci si scontra con tanti altri amici e giocatori sicuramente una modalità che verrà testata in creativa e che potrebbe essere portata nel battle royale quanto prima beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando è un bel pollicione in su se vi è piaciuto codice creator xiu derone noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao ciao